Dal primo giugno sospesi i ricoveri nel reparto di medicina dell'ospedale Piemonte, quattro posti letto saranno trasferiti al papardo. Ecco il documento firmato dal direttore sanitario Paolina Raitano, che dispone ufficialmente lo stop alle degenze ordinarie in uno dei punti di riferimento della struttura sanitaria di Viale Europa. Durissime le reazioni di Will, Orsa, Snatter e ovviamente del Comitato Salvare l'ospedale Piemonte. Dopo manifestazioni di proteste d'assemblea, il fronte dei cittadini, che continua a chiedere chiarezza sul mantenimento delle parti a disposizione del pronto soccorso, vede nella sospensione dei ricoveri il primo passo verso lo smantellamento dell'ospedale. Le bugie, si sa, hanno le gambe corte, attaccano Giuseppe Calapai e Mario Macri della Will, altro che 12 posti letto di medicina interna previsti dal protocollo d'intesa firmato tra le due aziende, Neurolesi e Papardo Piemonte, di fatto inizia la chiusura dell'ospedale. Decise anche le critiche ai deputati regionali Beppe Picciole e Santi Formica, definiti padri di un disegno di legge che continua a non fare chiarezza sul mantenimento dei posti letto per le emergenze. Nel Milino, anche il sindaco Renato Accorinti, definito grande paladino del giorno dopo, gli interessi dei cittadini, continuano i segretari Will, tutti sconfessati, le polemiche sul futuro dell'ospedale Piemonte continuano.